Sabato 17 ottobre, presso la bocciofila di San Pietro del Gallo, questa manifestazione pugilistica ai campionati senior di box. Siamo con l'organizzatore Felice Lauria della palestra Olympic di Cuneo. Che evento sarà? Sarà un bel evento. L'abbiamo organizzato io e Bruno Bottero. Sarà una giornata dei campionati regionali senior. Ci saranno 12 incontri di pugilato, ce ne sarà anche uno femminile. E a partire dalle 21, alla bocciofila di San Pietro del Gallo, ci potremo godere questo spettacolo a soli 5 km di Cuneo. Ci saranno dei ragazzi che tu hai preparato? Dei miei ragazzi ce ne sono tre che parteciperanno ai campionati e poi ce ne sarà uno fuori torneo. Poi il resto invece arriveranno da tutto il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Quindi una manifestazione a livello sovra-provinciale che abbraccia più ragioni. Sì perché comunque il comitato piemontese va a prendere anche un pochettino Pugilato della Valle d'Aosta e della Liguria perché sono comitati dove c'è sicuramente un pochettino meno possibilità di organizzare eventi e riunioni di Pugilato. Sarà un evento interessante dal punto di vista tecnico? Che cosa vi aspettate? Il livello è buono? Sì il livello di solito ai campionati è molto alto insomma, ai campionati ci si iscrive se si è veramente pronti e preparati sennò diversamente noi maestri non li facciamo scrivere ai campionati insomma ecco. Ci sono dei... Futuro pugile della boxe dell'Olimpico, è mia figlia Sofia. Ok allora invitiamo pure i telespettatori che ci stanno seguendo a questa manifestazione. Felice. Ok, spero che venite in tanti a godervi questo spettacolo di primi pugni per chi non ha mai visto la box qui in provincia di Cuneo. Dunque bocciofila di San Pietro del Gallo, sabato 17 ottobre a partire dalle 21.